Preoccupa e non poco l'aumento incontrollabile delle cosiddette fasce deboli, intere famiglie senza reddito e senza mezzi che chiedono generi alimentari e piccoli aiuti in denaro per superare i bisogni quotidiani. E così il Presidente dell'Associazione Nazionale NOAIDS, Peppe Barone, non si arrende e in una lettera aperta indirizzata al Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale di Pagani propone una sorta di memorandum di cose da fare per venire incontro alle esigenze di un'ampia fascia di popolazione. Molti sono gli anziani indigenti per i quali è necessario un immediato ricovero in istituti o in residenze sanitarie assistite. Si legge, in assenza di un intervento pubblico per questi ricoveri resta solo un'insufficiente assistenza familiare o la solitudine più sconfortante. Le richieste di aiuto domestico, continua Barone, superano in modo esorbitante ogni capacità di risposta da parte del Comune di Pagani ed il servizio di assistenza domiciliare riesce ad accontentare solo una parte dei richiedenti. Il problema dell'alloggio si ingrandisce quotidianamente con centinaia di famiglie che bussano la porta del Comune per cercare di avere una casa popolare o un tetto qualsiasi sotto il quale ricoverarsi. Unita alla carenza di lavoro, costituisce questo una miscela esplosiva nella quale si consumano i drammi quotidiani di molte famiglie. È per questo motivo che si propone all'amministrazione comunale di potenziare l'attività di assistenza dei servizi sociali scegliendo il metodo della prestazione diretta dei servizi e unitilizzando le disponibilità delle associazioni di volontariato e delle parrocchie per monitorare il territorio e intervenire sui casi più urgenti. Avviare subito dopo l'approvazione del bilancio i servizi civici per consentire ai cittadini con disagio di svolgere piccole attività sociali e ricevere una contribuzione corrispondente. Richiedere all'Enel la possibilità di una rateizzazione delle bollette non pagate per evitare il taglio della corrente elettrica alle famiglie per le quali il Comune può accertare lo stato di indigenza. Richiedere un intervento straordinario da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro degli Interni per tamponare le situazioni critiche di alcuni quartieri della città dove la povertà rischia di diventare il detonatore per lo scoppio delle difenze minoriche. Raccordare il volontariato cattolico, l'associazionismo, le parrocchie e la Caritas con le istituzioni comunali per realizzare una rivoluzione culturale ed attivare un sistema virtuoso di interventi assistenziali degno di una comunità che vuole sentirsi civile e moderna. Gli interventi individuati unitamente alle azioni intraprese dall'amministrazione comunale sono urgenti ed indifferibili e pertanto tutte le forze politiche e gli amministratori devono sentirsi impegnati in uno sforzo straordinario per contrastare una situazione di crisi che nella città di Pagani di giorno in giorno cresce in maniera esponenziale. A fronte di tutto ciò Barone chiede al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione di un'apposita seduta di Consiglio Comunale sui temi della povertà chiedendo la partecipazione degli organismi di volontariato che oggi rappresentano l'impegno più generoso e avanzato nella ricerca del sollievo dell'indigenza. quando si rivolge ad un'amministrazione e vede le porte chiuse in quel momento scatta la cosiddetta...